Ieri mi sono visto questa trasmissione di Corrado Formigli che si chiama Piazza Pulita, una bella trasmissione, tra l'altro ci lavora pure un mio amico che si chiama Alessandro Sortino e che segue sempre Beppe Grillo, gli fa di due parole, comunque la cosa è, a me piace molto come lavora comunque Sortino e tutto, ma la cosa è che ieri c'erano questo pubblico di Occupy PD che se lo sono passati tra Santoro e Formigli, si sa, come Calumet della Pace tra loro perché Formigli poi ha ricevuto Grasso, Grasso lo voleva Santoro, adesso hanno fatto Pace si passano questi di Occupy PD, vabbè può darsi, ma questo è secondario, la cosa strana è che in queste trasmissioni c'è sempre un pubblico che è di parte, cioè è di sinistra, ma quei 9 milioni di elettori di destra che hanno votato per Berlusconi, ma dove sono? ci sarà una bocciofila amici di film meccanica, amici delle belle brasiliane, il circolo mediolano, non lo so, ci sarà qualcuno, qualche posto, amici del Milan, non lo so, chiamiamo un po' di tifosi del Milan che stimano Berlusconi perché è il presidente del Milan, perché no, quelli sono sicuramente gente che Berlusconi l'ha votato, magari viene anche rappresentata una morfologia di questo elettore di destra, magari quello di destra non ci viene, non lo so, oppure diciamo abbiamo invitato un comitato, amici del golf di vicino Monza, Berlusconiano, ma loro proprio ci rifiutano, non lo so, perché avere sempre e comunque un pubblico di sinistra secondo me non giova a queste trasmissioni. E tra l'altro devo dire che l'ammirazione inconsciamente va a questi soldati di Berlusconi che sono spesso la Gelmini o la Santanchè o la Digirola, non lo so, c'è sempre qualche rappresentante del PDL che va lì, puntualmente si becca i fischi, dice cose che nessuno apparentemente in quella sede approva, salvo poi rappresentare un terzo del paese. E poi quasi in un'estasi generale piovono Elio Germano e Michele Riondino, i quali, uno col capello a zero come me e l'altro col capelluccio così che svolazza, dicono delle cose di cui tutti quanti siamo lì ad approvare in estasi, anche se sono cose diametralmente opposte. Cioè Elio Germano legge una lettera di Gramsci in cui Gramsci dice di odiare gli indifferenti. Ora, noi siamo in un periodo in cui quello che certamente non manca è l'odio. Io non odio nessuno e in qualche maniera diciamo che non trovo positiva l'indifferenza, ma credo che un veleno ancora peggiore sia l'odio. E quindi non è detto che siccome una cosa l'ha detta Gramsci sia giusta. Secondo, arriva questo Michele Riondino e dice una cosa opposta, e cioè mentre Germano fa una lettura sull'impegno di come in qualche maniera tutti siamo chiamati ad impegnarci perché lui odia gli indifferenti, o comunque legge una lettera di Gramsci che li odia, quell'altro invece dice che lui ha vinto le sue elezioni per il fatto che non ha votato. Ora, quindi dice che insomma la sua forma di non indifferenza, di impegno è nell'astensione. Contemporaneamente tutti e due si danno appuntamento in un palco vicino all'Ilva in cui tutto funziona a meraviglia, musicisti, insomma il fior fiore dei nuovi intellettuali e tutto, salvo poi che esce fuori che questa Ilva ha avuto il peggior momento della sua storia quando è stata gestita da mani pubbliche. Quindi c'è una grande confusione lì, non so, ora è gradevole perché c'è un presentatore tutto sommato giovane, altri giovani in platea, due giovani attori, uno che dice, noi applaudiamo tutte e due ma dicono cose completamente opposte. Una manifestazione in cui si mena un po' a destra e a sinistra ma non focalizzata sulle cause di quello che è stato il dramma di Taranto e quindi perché uno è stanco, dice vabbè vedo tutto. Il mio pensiero naturalmente è che in queste trasmissioni c'è sempre il rischio di una grande confusione e che si stenti a farsi un'idea di come poter eventualmente risolvere le cose. Io ho votato Grillo, sono convinto che questo governo Letta sia una sorta di lobby, di unione tra lobby e probabilmente risolveranno perché risolveranno per questioni di immagine questa questione dell'ILVA, ma il problema è che non esiste tra queste persone una percezione esatta del dolore, della sofferenza, della fatica di vivere ed esiste una chiara percezione della volontà di conservarsi e di conservare gli interessi di pochissimi. Quindi Grillo si è battuto, non poteva dare fiducia a un PD che sapeva profondamente oliato da questa situazione di collaborazione tra lobby affaristiche e quindi rappresenta in questo momento a mio modo di vedere l'opposizione al potere e agli oligopoli italiani. Se uno prende il listino dei titoli di borsa, vedete quelle 30 aziende, va a vedere chi c'è nei consigli di amministrazione di film meccanica. Ci trova a Letta, lo zio, poi si va a vedere la storia della Margherita dove Enrico Letta per anni ha tentato di destituire Prodi, non riuscendo neanche a destituire Rutelli all'epoca. Capisce perfettamente che non è possibile che queste persone si mettano una mano sulla coscienza, se ce l'hanno e decidano di migliorare veramente la qualità della vita degli italiani. Intanto però miglioriamo questa trasmissione di Formigli, che è una persona intelligente. Formigli, tu rischi di diventare il manifesto, non lo so, l'unità. Capisci? Nonostante tu faccia tutti gli sforzi per essere così, super partes, poi si vede che super partes non ci sei. Perché? Perché in qualche maniera il pubblico suona sempre alla stessa maniera, gli ospiti suonano sempre alla stessa maniera, c'è un unico, normalmente impopolarissimo rappresentante dell'opposizione, c'è una simpatia più o meno inespressa, ma comunque che si percepisce verso il Movimento 5 Stelle, su cui però non ci sono degli chiarimenti veri. A me mi sembra che Alessandro ha detto l'unica cosa sensata, il 5 Stelle deve accettare che esista una lettura esterna, è giusto questo, ma questa lettura esterna, datela, no? Ciao.